Non posso credere che si sia giunti a questo, non volevo venire qui. Non le ha lasciato scelta, vero? Ma questa è l'ultima volta. Sono stanco di fare il controllo danni ogni volta che combina un guaio. Esatto, lei è il controllo. Se fallirà, io sarò la distruzione. E sarà necessario. Petroger dovrà iniziare a fare le cose a modo nostro. Come meglio crede, consigliere. Puoi lasciare la borsa lì e la farò mandare al tuo alloggiamento. Ok, ci sono alcune cose da sistemare. Oh, davvero? Devo ricordarle il rivoluzionario lavoro che stiamo portando avanti. No, ma sono stato autorizzato dal Consiglio a controllare tutto. Il Consiglio l'ha autorizzata? Il Consiglio non sa niente di scienza. Vuole solo qualcosa che faccia guadagnare più soldi. Un prodotto. Non si preoccupi, avranno il loro prodotto. Un complice spiegamento tattico nei settori planetari più esterni. Le autorità continuano. Bene, questa è la situazione. È scomparso un altro membro della squadra scientifica. Siccome sei il pivello più alto in grado, tocca a te trovarlo. Voglio che controlli il vecchio centro comunicazioni. Pare che sia andato da quella parte. L'unica via è il passaggio di servizio sotto Mars City. Ho programmato questa sentinella per guidarti fino all'ascensore. Seguila meglio di quanto hai fatto finora con gli ordini. Benvenuto nelle segrete, Marine. Il posto meno eccitante su Marte. Prima di farti passare, dovrai prendere un corpetto e mettere la sicura alla pistola. Ok, prendi la tua roba. Ora sei pronto a combattere. Fammi fare una prova della radio. Marsec, controllo radio. Eccellente. Il segnale è buono. Sei stato assegnato al centro comunicazioni fuori servizio. Segui il passaggio principale attraverso il raccordo sotterraneo e poi fuori. Dovrai evacuare in fretta. Quale modo migliore di vedere la superficie di Marte che correrci sopra? Ok, sei pronto. Ah, ricorda, ci lavorano dei civili, non so. Non agitarti e non sparare a nessuno. Ehi, non vedo arrivare qualcuno da quella direzione da un po' di tempo. Benvenuto nelle segrete, fratello. Doviti il soggiorno. Voi della manutrizione fate così fatica a far funzionare queste apparecchiature? Non solo per la squadra scientifica, perché è molto da questa maniera. Ehi! Hai l'abitudine di arrivare così alle spalle della gente? Con tutte le cose strane che sono successe abbiamo i nervi a fior di pelle. Sei il tipo nuovo? Quello diretto al vecchio centro comunicazione? Faresti meglio a muoverti, amico. Questo passaggio non arriva fin là. Dovrai fare una passeggiata dal compartimento stagno. E non ti preoccupare, la tua tuta ha ossigeno in abbondanza. Capi squadra, rapporto. Passo. Comando, qui bravo. Abbiamo un marine morto e due feriti. Comando, in squadra 4. Siamo bloccati nel laboratorio alfa. Comando, qui stanno due. I generatori sono saltati nel sottolivello. Funzionano solo i sistemi di emergenza e di supporto vitale. Abbiamo molte perdite civili. È un disastro. Comando, stiamo cercando di... Guarda, Victor! Guarda la vostra posizione! Mi stanno portando a feste, ritiriamoci! Via, via, via! Fuoco di copertura! Guarda, libera! Un medico, un medico! Un medico, un medico! Un medico, un medico, un medico!